Lei guida l'opposizione interna? Non c'è opposizione interna, io guido insieme a altri fratelli d'Italia. C'è stato bisogno di un vertice con Arianna Meloni per evitare problemi oggi in assemblea. Frequento Arianna Meloni da quando avevamo... La frequento da sempre. Io non so neanche di che cosa si andrà a parlare. Ascolterò la relazione della Presidente. Ribadisco che non esista alcuna opposizione interna, tanto meno che possa fare riferimento a me che questo partito l'ho fondato. Quindi siamo proprio sulla luna, siete sulla luna.